Ecco, avete fatto questo intervento sull'articolo, anzi sull'inchiesta del Sole 24 Ore, insomma avete usato anche aggettivi importanti per definire soprattutto quello che ne esce della città. Sì, il giudizio che esce dall'articolo del Sole 24 Ore è un giudizio sulla città inaccettabile nella misura in cui si mischiano aspetti di leggenda storica, cronaca giudiziaria, aspetti economici. Insomma, direi un minestrone che getta sulla città un aspetto, diciamo, un'immagine, diciamo, fosca, inquietante che non corrisponde assolutamente a una realtà di migliaia di imprese, imprenditore e lavoratore del settore orafo che giornalmente affrontano la complessa e sempre più complicata, diciamo, competizione del mondo globale di oggi, portando ad Arezzo reddito e mantenendo, come l'han mantenuto e come lo manterranno, occupazione della nostra città. dal nostro punto di vista, quindi, una, come dire, una solidarietà e hanno fatto bene, diciamo, le associazioni di categoria a dare una risposta forte, risposta forte e io dico qualcosa di più, invitiamo, che vengano i giornalisti del Sole 24 Ore a visitare davvero le nostre imprese per vedere la creatività e anche la laboriosità dei nostri lavoratori. Ecco, lei è entrato un po' nel merito anche del fatto che, insomma, qui si parlava di vicende personali, particolari, vicende giudiziari che ovviamente asseriscono a persone fisiche, insomma, piuttosto che a una categoria. Certo, assolutamente. La questione, secondo me, in questi termini, là sul, diciamo, sul banco degli imputati vadano i singoli se hanno da rispondere, ma non l'intera categoria. Una categoria importante che ha dato molto alla città e sta continuando a darlo.